L'età del paziente oggigiorno non è più una contraindicazione assoluta all'intervento chirurgico, nel senso che attraverso un'equipa anestesiologica di primissima qualità, tecniche anestesiologiche e soprattutto tecniche chirurgiche avanzate, noi oggi possiamo effettuare interventi chirurgici anche su pazienti di età avanzata. Anche perché l'intervento chirurgico suecologico oggi viene costruito su ciascuna persona. Noi abbiamo casi in cui la persona ha tralasciato la psilocema di fossa, quindi si trova magari in età avanzata di 70-80 anni per avere risolvi trombosi o problemi di luce. Oggi possiamo fare degli interventi meno invasivi rispetto a quello che facevamo un tempo per migliorare la qualità di vita del paziente anche anziano e quindi garantirgli una buona qualità di vita. Grazie a tutti!